E' trailer time, andiamo a vedere se l'hanno messo online Ma di solito lo fanno vedere lì e dopo lo caricano, o meglio, lo rendono visibile E' un fake, sì, è un fake Andiamo a vedere il trailer su Marvel E' online, è online Andiamo a vederci subito il trailer di Black Panther, Wakanda Forever E' su Marvel Entertainment su YouTube Due minuti e dodici Non lo vedo, vedo She-Hulk E' io sto su YouTube Marvel Entertainment, video No, c'è, ancora non me l'ho caricato A me è su Marvel Entertainment, ce l'ho qua Eh sì, però no, mi fa vedere solo She-Hulk, come l'ultimo che hanno caricato Un'ora fa A ritardo Non lo vedo Neanche io Tanto guardiamo Nove ore fa, due ore fa, sette ore fa, cinque ore fa Filtri, ultima ora Riesci a mandarlo su Telegram Eh, ti mando un link su Telegram, sì Magari possiamo aprirlo Eccolo Ah Effettivamente, sì Boh C'è, no woman, no cry, è bellissima Lo stai caricando? Sì, sì, adesso lo posto, eh Lo metto sul Ok Strano che non E poi è su Marvel Entertainment Ok, ci guardiamo il primo teaser trailer di Black Panther, Wakanda Forever Cazzo però, perché non Quanto ci sono Ecco, Shuri E' Nakia o Shuri? Qui ancora deve partire No woman, no cry E' Nakia o Shuri Quello che si è il funerale di Chau Quello che avevo visto Coglio, torami ma In this great future You can't forget your past Not time No Giants Re bosnia Qualcuno che è fatto Lo scelto È Qualcuno che è fatto Quanto te Vi c'è Di I am queen of the most powerful nation in the world And my entire family is gone Have I not given everything? And when I wake up Let's see Allora Molto bella la fotografia, sono d'accordo Molto bello l'abbinamento musicale Sono molto perplesso però Potrebbe essere una figata Potrebbe essere veramente una figata Bisogna vedere come trattano la dipartita di Ciala Perché qua si capisce che è morto Però bisogna vedere come la trattano È quello che mi preoccupa di più Però visivamente a me è piaciuto molto Anche questo non concentrarsi tutto sull'Uakanda E farci vedere anche comunque La tribù Sott'acqua Non lo so, voi che dite? Andrea? P? Guarda, il tono mi è piaciuto Cioè mi piace comunque vada che sia più serio Che sia anche Diciamo di elaborazione del lutto Fa pensare comunque che ci sarà un erede Di Ciala E ovviamente è un teaser Quindi non è che ti mostra tantissimo la storia Però le emozioni che volevano far trasparire Sembra, come dici te, fotografia Sembra fatta bene Sembra fatta bene Non sono troppo convinto per il look di Namor Però mi piace che vogliono anche rendere omaggio Alle popolazioni precolombiane Quindi dare anche una Una interpretazione diversa di questi atlantei Perché alla fine Devi darne comunque vada uno spin Uno spin diverso Però sì, si vede poi alla fine anche la Black Panther E si vede anche che è una donna Dalla Eschuri Dalla Dalla silhouette Luca? Dicono che è finito È finito il panel? Il panel è finito Minchia, Warwolf Porca, troia Luca, che ci dici? A me è piaciuto molto Bene o male le cose che avete detto voi Sono d'accordo Avevo delle remore Anche io sul look di Di Namor Ma bisognava dare qualcosa di diverso rispetto all'Aquaman Dove comunque Atlantide era un po' come una Wakanda subacqua Qui invece ci hanno voluto dare Come se fosse Una civiltà bloccata nel tempo Quindi diciamo molto più Che abbia delle Ha delle origini precolombiane Ma è proprio Rimasta come se fosse una civiltà antica Bloccata nel tempo È interessante Sarà vedere come Caratterizzano Namo Se sarà come nei fumetti Così Altezzoso Ho visto che Gli altri Atlantidei Hanno la pelle blu Quindi Forse come Nei fumetti Namo Sarà Ibrido Metà umano Metà Atlantideo Questo è l'Atlantideo Perché gli altri Hanno la pelle blu Quindi gli Atlantidei puri Hanno Sono diversi E No Siccede Non c'ho paura Per quanto riguarda Come verrà trattata La morte Cioè io Almeno non capisco In che senso Che gli facciano Lo fanno morire In modo Banale Tu dici Eh Secondo me L'unico modo Per far morire È Malattia Malattia Eh Però insomma Sarebbe anche un po' No Un po' Io avrei preferito Che l'avessi ammazzato Gor I? Gor Macellatore di dei Preferisci una morte In battaglia Piuttosto che una morte Per malattia Sì Anche perché tu lo elevi A status di Dio Cioè lui A posto di beccare La Dea Bast Andava a beccare Colui che Indossava I suoi panni Praticamente Quindi Io avrei fatto L'avrei fatto Uccidere Da Gor Ma anche perché Ti mostrano comunque Una civiltà Che è molto avanzata Anche per quanto riguarda La cura Delle malattie Eccetera È vero Ti capita qualcosa Però boh Non lo so Probabile pure Che magari Neanche Dicono niente Cioè è morto Punto No più l'altro A me quello che invece Mi preoccupa È come Paranno nascere Il nuovo Il nuovo Black Panther Visto che i fiori Erano stati distrutti Ti avranno Sintelizzati Oppure Oppure L'armatura Sarà E quindi Diventerà una sorta Di Iron Man Dici tu Non lo so Io spero che Non ne parli Troppo effettivamente Però almeno Qualcosa da un altro Stanno mostrando Il trailer Un'altra volta E stanno dando I cappellini Di Miss Minutes Ma non era finito Skywalker Un bel trailer Stavo un attimo Riguardando Mentre parlavate Mi sembra che Oltre Così Parla subito Della morte Di Di Cialla Si parla pure Si vede pure Parecchio Del Teatro Anzi Perché si vede Questo bambino Che lascia Sott'acqua E fatto Un sbattolo Non so se È Nakia Eh non lo so Perché poi Sembra quasi Che Si introducono La storia Di Namor In Namor Si Poi Il montaggio Eh si Il montaggio È molto Particolare Quindi Stavo rivedendo Pure la silhouette Perché La nascita È Quasi arriva Non è Nelle profondità Si Infatti Sembra quasi Proprio Un parto Sott'acqua No Sott'acqua Sì Ma non Diciamo A profondità Da Da scuba Diver È più Come voglio Dare a fare In piscina Ma è perché Poi ci sta Subito L'immagine Di Di Namor Quindi L'hanno fatto Ci hanno Ombrogliato Un po' L'immagine Ti fa capire Il colore Della pelle Della donna È blu Oltre A bere Per più Orse L'acqua Per essere Di forze Di colore È molto Interessante Molto Mi piace Il tono Diciamo Che c'è Bastante Potrebbe Fare Un Parecchie Teorie Sulla nuova Fase Dopo ci Ne parleremo Allora Si Perché Si vedono Questi Armature Subacque Che vanno Quindi qualcosa È successo Secondo me Cialla Potrebbe Sare Pure Morto In uno Scontro Con gli Atlantidei Perché Vedremo Vedremo È una cosa Una morte Si In battaglia Piuttosto Che Un po' Malattia Non Ce la Vedo